Con il romanzo spiritualista estetizzante di fine ottocento entra in crisi il modello narrativo ottocentesco del naturalismo e del verismo per questi motivi. In primo luogo per l'attenzione esclusiva per i turbamenti dell'anima, il romanzo spiritualista estetizzante recupera il soggettivismo romantico, la centralità dei sentimenti e dei turbamenti dell'io in una prospettiva moderna che con le sue contraddizioni estreme anticipa la dissoluzione dell'individuo a cui assisteremo nei romanzi di Svevo e di Pirandello. Questo mutamento di prospettiva piuttosto radicale dal vero oggettivo alla soggettività problematica comporta, e siamo al secondo aspetto, l'introduzione di una serie di novità formali e di contenuto. L'interesse per l'intreccio, la costruzione della storia passa in secondo piano e così pure la volontà di ricostruire in maniera esaustiva un determinato scenario sociale. A prevalere è invece l'analisi del mondo interiore di un singolo personaggio. Alla narrazione dei fatti si sostituisce la registrazione di impressioni di moti interiori e stati d'animo. L'attenzione si concentra in genere su un singolo personaggio la cui vita interiore viene analizzata a prescindere dal contesto sociale. L'intera vicenda è spesso orientata secondo il punto di vista soggettivo del protagonista. Le tematiche non sono più legate alla rappresentazione oggettiva e allo studio scientifico della realtà, ma sono ispirate all'irrazionalità e all'estetismo decadente. Perché ognuno nella vita tende a realizzare la propria natura? Per questo si nasce. Ognuno dovrebbe vivere una vita piena, completa, dare forma ad ogni sentimento, ad ogni espressione, ad ogni pensiero, realizzare ogni sogno, ogni impulso che noi sopprimiamo intossica la mente. L'unico modo di liberarsi da una tentazione è il cedere. Resistendo, l'animo ne soffre e brama la cosa che ha vietato a se stesso. Non c'è niente che guarisca l'anima eccetto di tutti i sensi. Il tempo è geloso di lei, signor Gray. Non sciupi l'oro dei suoi giorni. Viva, non perda niente, non abbia paura di niente. La sua giovinezza durerà così poco e non tornerà più. Invecchiando siamo ossessionati dal ricordo delle squisite tentazioni che non abbiamo avuto il coraggio di concederci. Il mondo è suo per breve tempo. Sarebbe tragico se si accorgesse troppo tardi, come succede a molti, che c'è solo una cosa che valga la pena di avere. La giovinezza. Dorian Gray mai aveva udito l'elogio della follia espresso con tanta eloquenza. Il credo del piacere innalzato a filosofia della vita lo teneva come preda di un incantesimo. Ebbe paura delle idee di Lord Henry e si vergognò di averne paura. Era come se imparasse a conoscere se stesso per la prima volta, come se un estraneo gli avesse rivelato i suoi pensieri più segreti. Divenne consapevole della sua giovinezza e del fatto che un giorno l'avrebbe perduta.